Dopo la prima rottura a Temptation Island e il ritorno di fiamma al Grande Fratello, la storia d'amore tra Perla Batiero e Mirko Brunetti è giunta definitivamente al capolinea lo scorso agosto. Io e Mirko per la serenità di entrambi abbiamo preso una decisione dura, ma necessaria. Io e lui abbiamo scelto di interrompere la nostra relazione, ognuno seguirà il suo cammino. Abbiamo avuto una storia solida e un legame profondo, ma ad oggi questa era la decisione da prendere. Credevamo che il nostro sentimento avrebbe superato tutti gli ostacoli e le sfide, ma così non è stato. Continueremo a rispettarci. Io gli vorrò sempre bene, e questo non cambierà mai. Voglio specificare che i miei amici e la mai famiglia non hanno influenzato questa scelta. Siamo stati noi a prenderla e il resto non vogliamo che venga messo in mezzo. Da quel 3 agosto, giorno in cui i due ex GFini hanno annunciato la rottura, si sono rincorse voci su possibili riavvicinamenti, ma l'influencer Campana e l'imprenditore Rietino ormai non sono più una coppia da diversi mesi. Nelle ultime ore, però, Perla ha pubblicato un video su TikTok che sembra essere proprio un messaggio riferito a Mirko. L'ex GFina ha infatti condiviso una clip in cui canta e balla sulle note della nuova hit di Angelina Mango e Holly. L'avatiero ha scelto un passaggio particolarmente significativo del brano in questione. Ma tu mi conosci e sai, che una come me, non ritorna più indietro. Piuttosto va avanti sui cocci di vetro, mi giro e ti vedo, mi giro e ti vedo. E se ci penso sorrido, e se ci penso sorrido, perché l'ho capito, ma cosa hai capito? Non mi serve più averti vicino, tanto lo sai, tanto lo sai.